Musica Bonifica Bagnoli entro un mese delle prime gare svolta nella conferenza dei servizi, la colmata sarà eliminata, assente dei magistris che attacca Renzi, ritardi, colpa degli amministratori PD, premier Bagnoli, simbolo dell'Italia che si blocca. Controllore pestato a sangue, video, incastra gli aggressori, ancora un episodio di violenza al metro di Napoli, alla stazione di piazza Municipio, il filmato delle telecamere di sorveglianza ha consentito di far scattare le manette per cinque giovani. Armati davanti scuola avevano un mitra, parla la preside dell'istituto scolastico di Acerra, sono stati momenti di grande paura, l'antimafia chiede l'intervento del prefetto, emergenza, criminalità da non sottovalutare. Omicidio Ciro Esposito, la verità di De Santis, ho sparato io ma la pistola non era mia, detto in aula il romanista accusato di aver ucciso il tifoso napoletano, l'avvocato della famiglia della vittima dice, speriamo nell'ergastolo. Scandalo ruggi, basta fango sui medici, il presidente dell'ordine di Salerno interviene sull'inchiesta sulle presunte mazzette pagate ai pazienti, no a processi sommari, garantismo fino all'ultimo grado di giudizio. Frigento, nuovo blitz nel convento degli orrori, a Frigento stamani i carabinieri di nuovo nel convento dei frati francescani al centro dell'inchiesta della procura su presunte violenze sessuali, a Pompei indagato per molestie il prete che accolse il papa. Buonasera a questi titoli del nostro Tg, in primo piano ancora la bonifica di Bagnoli di Napoli, entro 30 giorni le gare per il piano di caratterizzazione dell'area di Bagnoli che dovrà essere bonificata, è una svolta ma continuano le polemiche tra Comune e Renzi, vediamo. Si entra nel vivo per la bonifica di Bagnoli, entro 30 giorni ci saranno le gare d'appalto per la caratterizzazione dell'area interessata all'intervento, inoltre la città della scienza dovrà arretrare per liberare la spiaggia così come previsto dal piano regolatore generale di Napoli. È una svolta che si è materializzata nel corso della conferenza dei servizi in prefettura, ma sullo sfondo restano le polemiche, ancora una volta assente al vertice il sindaco dei magistris, ma il Comune di Napoli ha comunque inviato due tecnici. Tuttavia il governatore Vincenzo De Luca non ha fatto sconti al primo cittadino, considero irresponsabile che si parli di deportazioni, facendo riferimento alla questione degli espropri delle abitazioni nell'area della bonifica. Ai circa 80 proprietari di case che sono intervenuti è stato garantito che prima sarà costruita l'edilizia compensativa e poi si procederà agli espropri, nessuno comunque sarà trasferito in un residence. Il sindaco dei magistris ha invece riaperto la polemica con il premier Renzi, che aveva parlato di Bagnoli come di una schifezza voluta dall'incapacità della classe politica del passato. Ci fa piacere, ha detto il primo cittadino, che in campagna elettorale il presidente del Consiglio, anzi segretario del PD, dica che su Bagnoli ci sono stati anni di schifezza politica, riferendosi evidentemente al suo partito che ha governato in quegli anni. Veleni a parte è stato confermato che il borgo marinaro di Coroglio, che comprende diverse costruzioni abusive, sarà demolito. Tra i primi obiettivi delle caratterizzazioni, ovvero le analisi di tutti gli inquinanti, ci sarà anche la radiografia della colmata di Bagnoli. La conferenza dei servizi si riunirà di nuovo il 3 maggio per affrontare il nodo dell'Arenire Nord di Bagnoli, i cui lavori partiranno prima dell'estate. Ed anche il premier Renzi ha sottolineato sui social l'importanza della svolta per Bagnoli, che sarà, dice Renzi, un altro simbolo dell'Italia che si sblocca. Siamo passati dai sassi al corteo lanciati a Napoli di qualche giorno fa all'approvazione unanime del progetto presentato in conferenza dei servizi. Perché, conclude Renzi, con gli slogan sono tutti bravi, poi c'è la realtà che è molto più seria e bella. Avanti tutta. Avevano scavalcato i tornelli senza pagare il biglietto della metro, poi avevano aggredito il controllore che aveva cercato di fermarli. Sono stati arrestati dalla polizia cinque giovani di Scampia, il servizio. Sono stati individuati e arrestati cinque ragazzi che ieri hanno aggredito un controllore reo di aver chiesto loro il biglietto della metropolitana. Si tratta di cinque giovani di Scampia accusati dai reati di danneggiamento, lesioni personali dolose e resistenza pubblico ufficiale aggravata. Il tutto è avvenuto nella stazione di piazza Municipio. Ad incastrarli sono state le telecamere a circuito chiuso, installate nella stazione, che hanno ripreso tutta la scena dell'aggressione e poi la fuga dei cinque malviventi. Dal video, infatti, si vede come il branco cerca di saltare i tornelli senza biglietto e poi interviene il controllore che cerca di fermarli. Ma tanto è bastato per far scatenare la furia. Intanto i colleghi del controllore, che lo hanno subito assistito e medicato, ora chiedono maggiori controlli proprio all'interno della metropolitana. Un gruppo di persone che tutte le sere prende la metropolitana per fare il ritorno credo a casa, perché sono persone che lavorano in quanto hanno una divisa da lavoro, quindi sicuramente torneranno da lavoro. E tutte le sere c'era una questione per questo voler passare i tornelli senza i biglietti. Evidentemente ieri hanno trovato un agente di stazione un po' più ligio al proprio dovere, una parola tira l'altra e sono arrivati a quello che non si dovrebbe mai arrivare. Sicuramente abbiamo bisogno di maggiore sicurezza, tutti questi tipi di lavori che hanno a che fare con il pubblico hanno bisogno di maggiore sicurezza. Diciamo che la sicurezza non è mai abbastanza, si può fare sempre di meglio e si può fare sempre di più. Se ci sono agenti in divisa, le persone invece di parlare e dire devo passare o meno, logicamente non lo farebbero questa cosa. Uomini armati di mitra davanti scuole, allarme e criminalità ad Acerra. La preside della scuola ricorda minuto dopo minuto la tragica sequenza in cui i ragazzi sono stati fatti rimanere in classe tra la disperazione e il terrore dei familiari. Vediamo. Una vera e propria emergenza a criminalità ad Acerra, nel napoletano teatro di trail ride su cui indagano i carabinieri, avvenuti in poche ore. Una vera e propria escalation esplosa in una tragica sequenza, culminata proprio nella sfilata di uomini armati a bordo di moto, sfilati davanti una scuola. E' successo all'ora di pranzo, di fronte alla scuola caporale in pieno centro, proprio mentre i bambini stavano per uscire. Nelle parole della preside Anna Iossa, il racconto della tensione vissuta minuto dopo minuto da familiari, professori, ragazzi. Per ringraziare le forze dell'ordine sono arrivati subito, per cui anche i genitori hanno visto le forze dell'ordine che parlavano con me, controllavano il territorio, la scuola. E quindi tutti calmi hanno atteso tranquillamente che l'ispettore di polizia mi desse l'ordine di far uscire i ragazzi. Ma non solo, la preside spiega come sia stato determinante il fatto che i ragazzi non avessero tra i banchi cellulari. Si sarebbero solo allarmati e sarebbe stato molto più difficile gestire l'emergenza. I ragazzi sono stati tranquilli, certo erano perplessi perché i collaboratori avessero detto state lì e non vi muovete, però stavano tranquilli perché non avevano il controllo, non avevano comunicazione all'esterno. E quindi i genitori non hanno potuto trasferire le loro angosce ai ragazzi. Ed ora la morte di Ciro Esposito. Oggi nel processo è stato sentito il grande imputato Daniele De Santis che racconta ho sparato io ma l'arma non era la mia. L'avvocato invece del tifoso napoletano dice auspichiamo l'ergastolo. Penso a Ciro tutti i giorni e mi dispiace per quello che è successo. Sono le parole pronunciate in aula oggi da Daniele De Santis, detto Gastone. L'ultraromanista imputato per l'omicidio di Ciro Esposito, ferito da alcuni colpi di pistola negli scontri avvenuti nel pre-partita della finale di Coppa Italia-Napoli-Fiorentina del 3 maggio 2014, è morto poco più di un mese dopo. Ho esploso io i colpi di pistola ma quell'arma non l'ho portata io, ce l'aveva un tifoso del Napoli. Ricordo di aver cercato di chiudere il cancello del Chuck Klebb ma di non esserci riuscito e di essere stato aggredito da un gruppo di napoletani che mi hanno ferito ad una gamba. De Santis, difeso dall'avvocato Tommaso Politi, ha aggiunto di non essersi neanche reso conto di aver colpito Esposito e che c'era una persona a terra. Una deposizione la sua contraddittoria, secondo il parere dell'avvocato della famiglia Esposito, Angelo Pisani, non credibile, che rappresenta un'ulteriore grande prova della sua colpevolezza. Con l'interrogatorio di De Santis si conclude la fase dibattimentale con l'escussione dei testi. Alla prossima udienza, fissata già per il 19 aprile, ci sarà la requisitoria del PM. Auspichiamo, ha concluso l'avvocato Pisani, che il pubblico ministero chieda ed ottenga la condanna all'ergastolo, perché solo la massima punizione sarà l'unico modo per rendere giustizia alla memoria di Ciro e alla sua famiglia. Garantismo fino all'ultimo grado di giudizio, ma anche irritazione per i processi sommari dopo il blitz all'ospedale Ruggi, sui presunti pagamenti per saltare le liste d'attesa. Il presidente dell'ordine dei medici di Salerno chiarisce la posizione dei camici bianchi, Giovan Battista Lanzilli. Se le indagini in corso porteranno ad una condanna, l'ordine sarà inflessibile, ma nel frattempo il presidente dei camici bianchi salernitani, Bruno Ravera, si espone in prima persona per dire no ai processi sommari al fango che hanno investito l'intera categoria dopo l'ennesimo scandalo all'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno. Devo precisare che i colleghi colpiti dalla misura degli arresti domiciliari non sono iscritti all'ordine di Salerno. Per altre persone c'è la procedura e noi l'abbiamo attivata senza indugio. Chiunque di altre regioni ha avuto modo di leggere i giornali di Salerno ha tratto la netta impressione che siamo una sorta di tribù dell'Africa subsahariana in cui non vi sono valori, principi, non c'è nessuna etica. Il che non è così. Noi ci siamo di fronte a dei comportamenti che rivelano uno scarso senso morale da parte di coloro che li hanno compiuti, punto. Se questo viene accertato, la nostra condanna è senza appello, punto. C'è un collega che ha chiesto e ottenuto l'autorizzazione a assistere ad un intervento chirurgico di persone a lui molto care. A un certo momento ha dato una mano. Questo collega è stato denunziato dall'ospedale per aver fatto chissà quale crimine. Il fango è stato scagliato, poi magari è stato rimosso con una persona bagnata. Secondo, è possibile che nell'ambito dell'azienda non ci fosse nessun funzionario dell'azienda, nessun dirigente in condizione di svolgere un'indagine di questo genere che bisogna affidarsi ad un magistrato dando quasi palese l'impressione che ci sia qualche cosa con il marcio da riscoprire e quindi dei colpevoli da individuare per poi pulirli. Hanno protestato davanti Palazzo Santa Lucia, Napoli per dire no all'accorpamento di laboratori di analisi, biologi proprietari degli studi medici che sono a rischio lavoro. Vediamo. Si sono dati appuntamento davanti Palazzo Santa Lucia per protestare contro l'accorpamento dei laboratori di analisi. Biologi, proprietari di centri analisi, dipendenti e fornitori continuano a battersi per salvare il proprio futuro. La notizia di ieri è che il Tarra ha sospeso in via cautelativa, almeno sino a maggio, l'efficacia del decreto 17, ma la questione è tutt'altro che risolta. Ce lo spiega Luigi Salvoni, presidente dei Fornitori Uniti Campania. Questo ovviamente causerà, secondo i calcoli che noi abbiamo effettuato, circa la perdita di 4.000 posti di lavoro. Tutte figure professionali. È la cosa strana che non riusciamo a avere una risposta senza che la regione risparmia un euro. Questo sistema asfalta completamente la rete laboratoristica della regione. Ci chiediamo quale futuro possono avere i biologi nostri. Così ha detto Elisabetta Argenziano, la presidente di Federbiologi Campania. Questo decreto, in pratica, per i laboratori sotto soglia, prevede l'accorpamento e l'evidenziazione del laboratorio centralizzato, altrimenti si rischia la perdita dell'accreditamento. Molesti è indagato il prete di Pompei che accolse Papa Francesco. Secondo le accuse della procura di Massacarrara, il sacerdote andato via un anno fa da Pompei voleva costringere con ricatto un giovane militare a rapporti sessuali. Vediamo. Sciocca all'ombra del santuario di Pompei, l'ex vicerettore indagato per calunnia e stalking. Secondo le accuse della procura di Massacarrara, il sacerdote Antonio Marrese, andato via un anno fa da Pompei, voleva costringere con ricatto un giovane militare a rapporti sessuali. È stato rimosso dall'incarico di Cappellano della 46esima Brigata Aerea di Pisa, ruolo che ricopriva da giugno del 2015 dopo aver trascorso circa 15 anni nel santuario Mariano e aver accolto e curato le visite di Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e di Papa Francesco. Il sacerdote, che è originario di Picerno, in provincia di Potenza, è stato inchiodato da una denuncia presentata da un giovane militare, originario di Bosco Reale, ma in servizio a Pisa. Dalla curia pompeiana, prendono le distanze in una nota gli altri prerati, hanno imposto al sacerdote a non celebrare pubblicamente. Il vescovo ha incontrato personalmente Don Marrese e commenta senza margini di tolleranza se colpevole deve pagare. Intanto il sacerdote è in ritiro spirituale a casa sua a Picerno, in provincia di Potenza. Aspetta che la magistratura si pronunci. Le perquisizioni effettuate nell'alloggio del sacerdote avrebbero complicato la sua posizione. Sarebbero state trovate buste bianche già affrancate dello stesso tipo. Sarebbe stata sequestrata anche una sveglia al cui interno c'era una telecamera e una penna completa di sistema per registrazioni audio. Intanto nel santuario c'è dolore e dispiacere per questo scandalo. Le sore pregano e si dicono tristi per quanto accaduto. Ma tutti chiedono chiarezza alla magistratura. Sesso e patti di sangue nel convento dei Francescani a Frigento questa mattina. Nuovo blitz dei Carabinieri. Sesso e patti di sangue. Nuovo blitz dei Carabinieri nel convento degli Orrori di Frigento in Irpinia. Questa mattina i militari sono arrivati nel complesso religioso per effettuare controlli e verifiche nell'ambito dell'inchiesta condotta dalla procura di Avellino. Il fondatore dell'Ordine dei Fratti Francescani dell'Immacolata, padre Stefano Manelli, dopo essere stato sospeso da Papa Francesco, risulta indagato. Ipotizzati reati di violenza sessuale e di maltrattamento nel convento. Circa dieci casi esaminati dagli investigatori. La procura starebbe indagando anche su sei ipotesi di omicidio. Al centro dell'inchiesta anche i patti di sangue con i quali le religiose erano costrette a firmare la loro devozione all'istituto. Retroscena inquietanti come quello dei cibi scaduti mangiati per obbedienza e delle flagellate durante le preghiere serali. Da mesi si susseguono racconti e smentite testimonianze di ex suore che rivelano come l'ottenimento dei voti nel convento fosse legato alla sottoscrizione di un patto di sangue, proprio come fanno Camorra e Ndrangheta. Padre Manelli ha sempre respinto le accuse parlando di calugne, ma intanto il dossier sarebbe all'attenzione anche del Vaticano. Marco Milanese, ex politico e consigliere di Giulio Tremonti, ex deputato del PDL, originario di Cervinare, è stato condannato a due anni e mezzo di carcere dal Tribunale di Milano in un filone del processo del caso Mose. I giudici hanno contestato il traffico di influenze illecite e derubricando l'iniziale accusa di concorso in corruzione. Il PM Roberto Pellicano aveva chiesto a giudici la condanna a tre anni e mezzo di carcere. L'ex deputato presente in aula non ha voluto commentare la sentenza. Adesso andiamo a Salerno. Un impegno congiunto tra Comune e Regione per salvare la Corte d'Appello che rischia di scomparire per essere accorpata a Napoli. Il sindaco Napoli e il governatore De Luca in campo per tutelare l'autonomia. Vediamo. Sinergia istituzionale totale tra Regione Campania e Comune di Salerno. Il sindaco del capoluogo Enzo Napoli assicura impegno congiunto al fine di scongiurare con ogni mezzo a disposizione la paventata ipotesi della soppressione della Corte d'Appello di Salerno e l'intesa con Palazzo Santa Lucia arriva a seguito di un colloquio telefonico intercorso con il governatore Campania Enzo De Luca anche egli impegnato nel seguire da vicino la vicenda e trovare una soluzione che tuteli la sede cittadina. Lo stesso De Luca ha sottolineato di aver attivato contatti e sviluppato iniziative a livello governativo e ministeriale finalizzate ad assicurare la permanenza a Salerno di quello che ha definito un servizio fondamentale per la buona amministrazione della giustizia nel territorio al servizio dei cittadini e degli operatori del diritto una mobilitazione apprezzata dalla fascia tricolore che ha espresso gratitudine per l'impegno del governatore Campano continua dunque il pressing sul governo affinché ci ripensi e decida di lasciare autonoma la sede giudiziaria salernitana solo due giorni fa il presidente della Camera Penale di Salerno Michele Sarno aveva ribadito ancora una volta che gli avvocati del foro sono pronti anche allo sciopero pur di non perdere il presidio il braccio di ferro insomma continua il sindaco di Benevento ha vietato il libro di Rina Junior tra le librerie non si fanno drammi chi lo vuole lo avrà lo stesso i ragazzi compatti però contro l'ordinanza i libri non si vietano se sono pessimi come questo basta non comprarli il libro di Rina Junior è stato vietato pro form a Benevento da un'ordinanza del sindaco ma cosa ne pensano i cittadini? le librerie non ne fanno un dramma l'ordinanza come ha spiegato lo stesso sindaco è solo una moral suasion e non ha effetti pratici e dunque chi vuole il libro può ordinarlo tra i ragazzi il pensiero è differente vietare i libri è sbagliato ma sbagliato è pure scrivere libri su personaggi come il figlio di Rina io sono contro vietare i libri perché obiettivamente ognuno scrive quello che vuoi sono per la libertà di pensiero per tutti quindi tu scrivi il libro poi ti sta all'agenda a comprarselo a leggere e a farsi un'idea sicuramente è una provocazione però dal punto di vista di un librario noi non possiamo decidere cosa voglio leggere il lettore credo che il sindaco abbia sbagliato in qualche maniera però credo che un libro di Dottor Rina non lo leggerei mai anche perché comunque è stata una persona che ha fatto quello che ha fatto magari il fatto di intervistare il figlio di un mafioso in televisione quello no è discutibile in su però il libro mi sembra vietare i libri non va affatto mai perché comunque stai vietando la cultura obiettivamente ognuno si legge quello che vuole stai vietando la libertà delle persone rinnovi per le esenzioni scadute la lotteria dei numeri e code estenuanti anche di più giorni benvenuti nel girone infernale dell'asle di Salerno il servizio è di Giovanni Battista Lanzilli è una sorta di estrazione è una sorta di gioco dell'oca dove i più fortunati riescono a prendere il numero eppure potrebbe non bastare perché ad un certo punto l'attesa diventa estenuante e bisogna tornare per più giorni siamo al distretto Asl di Salerno in particolare al quartiere Pastana dove esplode da giorni la rabbia degli utenti infuriati per le lunghe attese i permessi per quanto riguarda l'esenzione del ticket sono scaduti il 31 marzo quindi è una corsa al rinnovo bisogna presentare tutti gli incartamenti necessari molti gli utenti prigionieri della burocrazia in particolare le persone anziane da una settimana che venga non sono da stamattina alle 7 è veramente stamattina è venuto il mio genero a prendere il numero quasi alle 7 è qualcosa e io sto qui dalle 9 già 5 giorni io vengo vengo la mattina e i numeri non ci stanno quindi devo fare la fila stamattina sono stato fortunato ho trovato il numero dalle 8 stamattina sono ancora qua io sono venuto stamattina verso le 8 ho trovato un amico e gli ho chiesto il piacere di prendere due numeri comunque non penso che sia un procedimento che vada bene specialmente per le persone anziane mi auguro che non trovino obiezioni alle carte presentate certo è una cosa assurda comunque la lamentela mi dispiace per le persone anziane che patologicamente soffre vederle in situazioni ambigue mi pare una poca strana la situazione cioè chi lavora come deve fare è complicato insomma anche per le persone anziane che aspettano le esenzioni e per voi che siete infatti per tutti è complicato sui migranti non c'è accordo per la gestione diretta cade ancora nel vuoto l'appello del prefetto di Avellino Carlo Sessa intanto in città si parla della nuova ordinanza anti-bracconaggio vediamo l'appello del prefetto Carlo Sessa ai sindaci Irpini è stato chiaro netto bisogna passare alla gestione diretta dei migranti un invito che però ancora una volta nella riunione di stamattina non è stato accolto soprattutto dai grandi comuni della provincia al punto da spingere la UIL ad una nota durissima l'Irpinia non è una terra di solidarietà visto che non c'è nessuno o quasi che sia disponibile ad affrontare la questione dei migranti con il doveroso senso civico che dovrebbe contraddistinguere le comunità dei 118 comuni con l'arrivo presumibilmente di altri 350 migranti nelle prossime settimane si rischia davvero la paralisi il tutto all'indomani dell'entrata in vigore dell'ordinanza anti-accattonaggio del sindaco Paolo Foti che in città già fa discutere misure talvolta necessarie perché queste che chiedono le remose diventano un po' invadenti a me non ha mai fastidio anche perché abito proprio qui ne trovo almeno una decina è un peccato vederle per carità però io penso che tra qualche anno saremmo invasi da questa gente sicuramente bisogna prendere dei provvedimenti soprattutto per tutelare i cittadini italiani fermo restando che non abbiamo nessun tipo di discriminazione nei confronti di questa gente abbiamo fatto l'erpinia dei poveri è una cosa indegna scoperta in una soffitta un'opera che potrebbe valere 120 milioni di euro la Francia non vuole farlo uscire dal paese intanto i massimi esperti d'arte del mondo si dividono sull'autenticità dell'opera è la storia di un quadro ritrovato in una soffitta di Francia una storia tanto bella che pare tutta inventata ma se fosse tutto vero una versione del celebre dipinto di Giudice Loferne è stata scoperta nel solaio di una vecchia casa di campagna nei dintorni di Tolosa il quadro che Caravaggio dipinsi a Napoli secondo Eric Tarkin a capo del team che sta curando gli studi sulla tela tra il 1600 e il 1610 e da dove sparì misteriosamente nel XIX secolo il quadro rinvenuto nel 2014 è stato mostrato per la prima volta a Parigi dagli studi finora effettuati sul dipinto è in dubbio alla mano di Merisi ma i critici d'arte si dividono il Ministero della Cultura francese intanto ha disposto che la tela non esca dal territorio nazionale Caravaggio dipinse due versioni della Giuditte Oloferne una a Roma conservata nella Galleria Nazionale d'Arte Antica di Palazzo Barberini l'altra dipinta a Napoli e di cui non si hanno più notizie dal XVII secolo gli esperti studieranno l'opera nei prossimi mesi l'attribuzione sarebbe confermata da una copia dell'epoca realizzata da Louise Finson appartenente alla collezione del Banco di Napoli ed esposta a Palazzo Zevalos a Napoli un fatto che avvalora la tesi che il quadro sia squisitamente napoletano il che potrebbe aprire un contenzioso internazionale dove il capolavoro debba essere conservato ma l'attribuzione è ancora tutta da confermare e tra gli storici dell'arte non mancano le voci scettiche la giudizia Loferne ritrovata verrà affidata al Louvre dove si studierà se si tratta davvero di un lavoro di Merisi o di un suo seguace superficialità e relativismo etico stanno mettendo in crisi l'istituto del matrimonio e della famiglia l'allarme è lanciato in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario del tribunale ecclesiastico di Salerno Andrea Caruso La crisi del matrimonio e le novità introdotte motu proprio da Papa Francesco nel processo canonico ecco i due macrotemi al centro dell'inaugurazione dell'anno giudiziario del tribunale ecclesiastico di Benevento che ha anche sede giudiziaria di appello per la Puglia e l'Abruzzo lo snellimento procedurale per lo scioglimento del vincolo matrimoniale dettato dal pontefice da un lato ha incoraggiato l'apertura delle istruttorie e dall'altro evita l'accumulo di giudizi pendenti in appello Due sono gli elementi importanti di questa riforma innanzitutto sono stati dimezzati i tempi nel senso che è stata abolita la doppia sentenza conforme poi c'è l'altra novità del cosiddetto processo più breve davanti all'arcivesco davanti al vesco della diocesi nel caso gli elementi di prova sono incontrovertibili e molto chiari è inutile aprire un processo ordinario quindi in quel caso il vesco interviene sempre in modo giudiziario e pronuncia una sentenza di nullità i dati evidenziano in modo inequivocabile la superficialità e il relativismo etico e sociale con cui i giovani si avvicinano al matrimonio questa è la grave presa d'atto che si legge nella relazione i 381 provvedimenti emanati nel 2015 tra primo e secondo grado 18 in più del 2014 e le 361 cause pendenti al 31 dicembre 31 in più dell'anno precedente certificano lo stato di crisi in cui versa la concezione cattolica della famiglia tra i motivi di annullamento più frequenti figurano la non contemplazione di caratteristiche peculiari dell'unione religiosa indissolubilità e prole su tutte e l'incapacità di discrezione di giudizio ossia una mancanza di sufficiente maturità per assolvere agli obblighi del matrimonio la polizia la polizia municipale di lauro sequestra la vasca realizzata dopo la frana della frana del 1998 ma i contadini restano senza una strada per raggiungere i fondi agricoli la loro rabbia SOS città vediamo contadini sul piede di guerra perché impossibilitati a raggiungere i propri fondi agricoli SOS città torna a Pignano in Basse Erpigna in seguito alla nostra denuncia sul degrado e l'incuria tra le opere per la mitigazione del rischio idrogeologico la polizia municipale di Lauro ha posto sotto sequestro la vasca realizzata dall'Arcadis dopo la frana di 15 del 1998 dimenticando però di lasciare libero un varco per favorire l'accesso degli agricoltori all'altro versante del canale quello dal quale si raggiungono Noccioleti e Castagneti a causa della costruzione di questo invaso è stato costruito un canalone interrompendo la strada che porta che porta all'accesso ai terreni di proprietà dei vari signori di Pignano e roba del genere automaticamente questi proprietari non possono accedere da questo momento all'accesso ai propri terreni di proprietà Non posso andare per nessuna parte come già faccio via l'elicottero Chiudendo quella strada noi non sapevamo per dove andare e siamo andati il cancello dall'altro ingresso in questa vasca e arrivato ad un certo punto andando di là hanno scaricato il materiale diciamo così montizie e cose di vario genere e il comune a sera della mattina ha preso e chiuso ha bloccato tutto in modo che noi non possiamo andare a nessun posto quando chiuso hanno fatto bene perché stiamo facendo un immondezzale copertone non so quanto cose devono buttare qua dentro però plastica però noi dove dobbiamo passare per andare alla nostra terra perché abbiamo gli animali devono solo ripristinare la vecchia strada comunale chiudendo il canalone il TG termina qui io vi ringrazio per averci seguito vi lascio al TG Sport per averci seguito